Oggi è il 5 né? 5 di luglio siamo tornati siamo tornati in quel di Bard in Valle d'Aosta infatti quello che vedete davanti è il castello di Bard e adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare un boccone da qualche parte, qualcuno che ce lo dà La fattina nel borgo vai vai E' carino il caffè di strano Si? Finalmente possiamo concedersi una piccola sosta Sì Speriamo tranquilli in pace col mondo E' importante, eh? Ma io lo sono sempre in pace col mondo Sì, col mondo Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. È poco e sempre troppo ghiaccio. Come faccio? Eh? Adesso andiamo a portare i moccini. Che schifo. Grazie. Non li metto. No. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti